Musica Bene, buongiorno a tutti e grazie per essere qui. Eravamo disposti ad ammettere qualsiasi cosa, ma non di essere cominciati dai piedi. Ecco, questa è una frase che scrive André Lerouagouan, uno dei massimi antropologi fisici o paleontologi del Novecento, autore di un libro fondamentale che si intitola Il gesto e la parola, dove spiega l'evoluzione umana. Ecco, questa frase è significativa perché Lerouagouan ci dice, forse abbiamo sempre pensato che ciò che distingue l'uomo dagli altri animali o ciò che ha caratterizzato l'evoluzione dell'uomo è il cervello. E invece no, ci dice i piedi. La storia dell'umanità inizia con i piedi. Siamo cominciati di lì. Ecco, perché? Perché è grazie ai piedi che poi ci siamo spostati da una torrida depressione africana nell'Etiopia, dove è nato il genere umano, e ci siamo sparpagliati in tutto il pianeta. Ecco, perché questa insistenza sui piedi? Perché negli ultimi due decenni, forse un po' meno, c'è stato un grande successo nelle retoriche comunicative e mediatiche della metafora delle radici. Si sente sempre parlare delle radici, la difesa delle radici, dobbiamo riappropriarci delle nostre radici. Ecco, allora, uno quando pensa alle radici, ovviamente pensa immediatamente a un albero che non si muove e che trae il proprio nutrimento, la propria essenza vitale, proprio dal terreno in cui è radicato. Però, se guardiamo cosa abbiamo alla fine nel fondo delle nostre gambe, vediamo che abbiamo piedi. Ecco, e questo ha caratterizzato tutta la storia dell'umanità. Noi siamo una specie migrante. Oggi l'Italia è un caso poi particolare di un paese dalla memoria corta, che ha dimenticato molto rapidamente quanto sia stata l'ece lunga e copiosa l'emigrazione. Siamo un paese da cui, in genere, la gente è sempre andata via, quindi si spostava. E solo da poco è diventato un paese d'accoglienza. Per cui, l'arrivo degli emigrati viene spesso drammatizzato, viene urlato dai media, viene amplificato e spesso presentato come una cosa nuova. Ora, forse è una cosa nuova nell'Italia moderna e contemporanea, ma è assolutamente un fenomeno normale nella storia di tutta l'umanità. Proverate a guardare all'indietro ed è una storia di gente che si muove. Popoli, famiglie, individui singoli, ci siamo sempre spostati. Ecco, però, alla fine sembra quasi avere più successo l'idea delle radici, cioè il paragonarci a degli alberi, a delle piante.